io faccio sempre dei segni quando non ce la faccio più comunque si vede l'audio è connesso perché vedo l'affarino che si muove sopra qui abbiamo uno giovane che è sempre andato molto forte ha detto che lui a costa lo trita se vuole perché quando lui è arrivato ha vinto subito quindi non ha mai l'uno e 56 perché non volevo migliare gli avversari ragazzi stiamo parlando di ragazzi con tanto talento tanto talento allora loris capirossi ovviamente e volevamo anche carletto pernate ma carletto c'è adesso un problema perché ha finito una maratona stamattina e si sta un attimo di una maratona di 12 metri allora loris qui c'è praticamente l'occhio super esperto hai visto questi tre giorni di test hai visto i tempi che sono stati fatti una tua impressione partiamo dal presupposto che sono andati veramente veramente molto forte perché ho analizzato i tempi dell'anno scorso dei test se pang e sono andati un secondo e sei un secondo e cinque più veloce l'anno scorso quindi questo vuol dire che c'è stata un'evoluzione a livello tecnologico ma soprattutto a livello dinamico paurosa in moto se vai a vedere come sono veloci in curva fanno veramente paura le gomme c'è stato un cambiamento sulle gomme quest'anno secondo me sarà un anno bello perché ci sono tanti piloti con le moto buone e devo dire che tutte le moto sono vicine sembra che sia yamaka e honda si sono avvicinate non hanno più il gap che avevano l'anno scorso e ktm va bene aprilia anche ducati è sempre atti per l'occaso ducati le tre gp24 sono davanti a tutti poi ce ne sono sei nei primi sette cosa sono no si sei nei primi sette c'è ancora qualcosa di più di tutti gli altri ma beh senza dubbio voglio dire gli ultimi due campionati gli aventi ducati hanno otto moto in pista con otto piloti forti quindi questo vuol dire che loro hanno sicuramente un numero di dati superiore agli altri su cui possono lavorare e poi sono sono senza dubbio molto bravi questo è chiaro se ti abbiamo parlato adesso eravamo nell'ospitali di aprilia una delle tue vecchie case c'era lei c'è spargarò e ha detto che queste moto fisicamente sono ti demoliscono allora è vero che con questi apporti aerodinamici che hanno queste moto diventano più fisiche da guidare perché hanno molta più stabilità però diventa più difficile girarle destra e sinistra questa qui è il fisico che gira la moto destra e sinistra con questi appendici sono più pesanti però c'è anche da dire che arrivano dall'ultimo test di novembre a valencia due mesi senza girare moto ti trovi da zero gradi a più 35 37 è difficile poi fare tre giorni per quello che l'ultimo giorno sono tutti molto molto stanchi però le moto sicuramente sono più difficili senti è tornato il problema che che praticamente tu hai sperimentato nei tuoi primi anni in ducati perché queste moto scaldano tantissimo soprattutto la priglia sembra avere questi problemi no ieri abbiamo notato entrambi per esempio lo scarico della ktm che soffia addirittura sotto la leva del 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 freno ha voluto mettere una panattia però stranamente tu c'hai parlato no? Stamattina io sono andato a farmi una visita in tutti i box per vedere un po' tutte le novità e ho notato che la ktm ha questo scarico cortissimo proprio sotto la pedana sotto la leva e stavano scaldando la moto io ho messo una mano sulla pedana per capire se effettivamente scaldava e loro mi hanno rassicurato dicendo no guarda i piloti non si lamentano e sembra funzionare molto bene però è vero che queste moto scaldano scaldano la tua che cosa avevi fatto? la mia era una stufa era un barbecue avevo già avuto un'estione di secondo grado alla coscia quindi quella scaldava veramente preziosi metteva il sangue ben cotto esatto decideva lui come poterci senti ma a proposito di vecchi tempi sembrava solo pochi anni fa qua quando si scendeva sotto i due minuti sembrava che una cosa spaziale adesso scendere sotto i due minuti lo fanno nel giro di scaldamento ma ti parlo che scendere sotto i due minuti eri un fenomeno facevi un giro alla morte proprio per dire l'ho fatto ma adesso se giro di passo 58 voglio dire è paura e questo vuol dire che effettivamente c'è stata veramente un'evoluzione e prima tornando un attimo indietro sull'aerodinamica a tante persone piace o non piace a me personalmente io sono assolutamente pro a me mi piace da morire perché vedi l'evoluzione che sta andando avanti le moto specialmente del 24 sono molto diverse da quelle della mascolta ma anche molto diverse sono molto diverse ma poi diciamo si distaccano un po' dalla motocicletta normale nel senso che c'è qualche moto di serie ma assolutamente ma guarda se tu prendi una moto qualsiasi Yamaha o Honda o quella che vuoi e gli togli tutte le appendici aerodinamiche non è diverso da quella che usavo io dieci anni fa le moto sono molto simili però con questi appendici diventano bellissime come dicevano ieri come diceva ieri Romano Albesiano poi costa meno sviluppare questa tecnologia che fare i motori e se ne parla un sacco perché la gente lo vede a me mi piace mi piace molto io li metto neanche sulla Vespa agli elettori io sono amare tu voglio dire per i mezzi tamarri mi sembra che sei il numero uno hai fatto con la macchina assolutamente una lettura poi c'è costruito intorno a macchina la bevi ancora a far provare si si ha detto di si ma promesso promessa di pilota a proposito di piloti questo a costa ha sorpreso e poi la seconda domanda è su Mar Marquez perché tu hai cambiato tante moto nella tua carriera lui invece è stato più di dieci anni sulla stessa casa e adesso si ritrova in un mondo diverso quindi doppia domanda partiamo da Costa a Costa ha un talento indiscusso nessuno discute sul talento perché tutte le classi che è andato è arrivato ha fatto fuoco ha vinto e ha cambiato è partito già l'abbiamo visto a Valenza l'anno scorso il primo test la prima volta che ha scelto sulla KTM è stato subito velocissimo e qui è andato forte è andato forte nello shakedown e sta andando fortissimo adesso secondo me è uno di quei piloti che la KTM si toglierà un sacco di soddisfazione con lui sicuro Mark è un altro pilota che non si può discutere su Mark Mark Marquez è un altro di quelli che ci sono pochi piloti che hanno il suo talento è chiaro dopo tanti anni con la Honda il fatto di cambiare andare su una Ducati anche se è una moto sicuramente molto competitiva deve prendere un po' di tempo si è trovato subito da Dio a Valenza e qui ha faticato un po' di più su questa pista però è lì è lì attaccato i primi senti tu dopo il tuo ritiro hai continuato un po' a provare queste moto poi l'anno scorso a Misano eravamo con assieme con V Motosoco ti ho visto che ancora insomma Smanetti era grande c'hai un po' curiosità di provare queste moto ma io allora guarda io giro c'ho una MotoGP c'ho una 2021 quindi già una di quelle moto con molta aerodinamica è un'altra roba noi alla nostra epoca dovevi controllare il gas per non farlo impennare si muoveva queste non si impegnano non si muovono e vanno veramente forte è chiaro che per andar forte devi avere del talento non è che uno pensa ai MotoGP di oggi sale chiunque va forte non è vero però quelli bravi vanno forte l'abbassatore ce l'hai sulla tua si che ce l'ho anche l'abbassatore ho detto è un ragazzo è un full optional non lo scherziamo o le cose le abbiamo giuste noi le abbiamo senti tu a parte voglio dire i trascorsi non solo tuoi di Valentino di Max cioè Max non ce l'ha mica la MotoGP è un barbone non vuol spendere niente neanche Valentino ma vale ce ne ha secondo me ce ne ha ma non ci gira ce ne ha ma ce ne ha lì io ce ne ho abbastanza però c'è la macchina Tamarro adesso lui perché adesso con la GT3 fondamentalmente tutti i piloti o ex piloti rimangono comunque Tamarri dai un pochino però voglio dire c'è Tamarro e Tamarro io sono nell'estremo del Tamarro poi c'è quello un po' meglio c'è da dire che io adesso non voglio fare nomi però c'è un pilota che è tornato in attività che anche lui è piuttosto bravino sulla Tamarragine in senso positivo adesso sta in un campionato parallelo ah si ho capito dai è stato un po' fermo facciamogli gli auguri Andrea sei un grande per cui ci devi far divertire da bestie io sono sicuro che Andrea ci farà divertire cacciata lento e voglio dire è stato un pochino fermo si è riposato adesso ha ancora tanto la data al 100% ma chi è il più Tamarro della MotoGP attuale il Capirossi della MotoGP attuale non c'è capirossi no non c'è però a livello Tamarra insomma adesso sono molto più romantici si poi sono tutti tutti un po' tranquilli bravi ragazzi se posso dirlo Jack Jack perché comunque è così un po' fuori dalle righe Miller Kake qua però Miller è un po' selvatico anche lui però sono bravi ragazzi a livello di Capirossi non c'è nessuno troppi sono tutti i bravi ragazzi i nostri piloti adesso bravi troppo bravi troppo bravi e vanno forti tutti forti molto oh Loris grazie come al solito vedersi adesso andiamo con un paranchetto a prendere perna se lo portiamo qua va bene vi aspetto ciao ragazzi ciao ciao